Allora, Fabrizio Casalino ha tanta comicità ma soprattutto in questo primo periodo tanto teatro per un momento che non è solo di comicità quindi Eh sì perché guarda sai io sono un comicastro che ho sempre fatto locali più che altro e devo dire che finalmente stare in un teatro che è un posto credibile mi dà anche una certa credibilità, mi fa sentire meglio soprattutto una volta tanto mi sento un serio professionale Vieni oh! Casalino! Non c'è! Colorato! Benito ma forte, oh Casalino, la mia amica è un'attore! Sei in forma eh Casalino, non sei bene eh! Sfrutta la mia pitazzata ma ci voglio bene lo stesso Eh ci stai dando, anche la mia sembrata, ma meglio fra di noi, oh dai! Prima ti ricordi con la botoglia hai lasciato un cavallo in un posto, sei l'invito, lei è andata, non te la vuole, la ti ricordi! Vieni Casalino con la chitaria, ci ha lasciato la chitarra a fianco! Caccia, casalino ci facciamo un sensore! Dai Casalino che femmainorte che Vieni a casa lì uno troppo vel茶 e ci sballa Non sa cosa ha la musica che prende Ma non ti... Cio è un liceo che si spacca poi, è incredibile Un serio professionista Grazie a tutti.